ragazzi buongiorno fase 2 oggi 15 giugno 2020 fase 2 a londra vi avevo promesso che vi porto da primark il negozio mi avete chiesto tante volte ecco qua ogni una entra una esce la fila eccola qua è chilometrica ma ve l'avevo promessa ragazzi obbligate la mascherina allora come vi come vi dicevo due stelline 50 t-shirt canotto tutte di ottima qualità tutte le misure preferite tutti i colori tutto ottengure maglioncini di filo 4 stelline le t-shirt due stelline tutte le misure due stelline 50 atti tipi di t-shirt a mezza manica non vi faccio vedere tutto perché con la moda è diversa non è modo italiana qua trovate cose che in italia non trovate che un modo stravagante divertivo perciò non vi faccio vedere tutto quello che vi può interessare costumi da donna due stelline due stelline pezzo di solo pezzo di sotto tutto due stelline borse per il mare grandi come quelle che abbiamo in italia sei stelline quelle di paglia 8 stelline sono buone allora 10 stelline tutti i tipi di jeans vita alta vita bassa stretti larghi poi di fronte vedete due stelline 50 i leggings due stelline 50 di puro cotone allora io non vi posso fare di tutti i prezzi che qua già c'è una fila di due chilometri non vogliono che uno entra fai video e perde tempo capito i camerini sono chiusi perché ora si fa c'è 28 giorni tempo per portarli indietro perché per evitare il contagio hanno chiesto i camerini allora per le ragazze che vogliono fare sport tutta la roba sportiva 10 stellino e pantalone sei la canotta sopra o ci fanno 10 stelline 8 stellino il kit tutti e due insieme vedete tutta roba di ottima qualità tutte le misure allora anche qua ci sono gli sconti 50 penni invece di una stellina su queste sono delle ventose questo è unito allora qua siamo gli departo beauty beauty borse ferma capelli tutta la roba non basterebbero due giorni a farvi tutto questo vi faccio delle cose più importanti per voi donne eh vado a seguire un po' allora una stellino e 50 dai fasci che si mettono nei capelli ci sono di vari prezzi anche di meno le spazzole una stellino e 50 le spazzole buone tutti tipi di spazzo questo è quella anche i nodi ragazzi piastre per capelli 10 pound 8 pound di questo modello qua scarpe 8 stelline 8 stelline vedete giubbini vieni con me maria giubbini più mini 11 stelline ragazzi qua non siamo nei mercati gli amici di napoli possono rispondere ma pure a napoli qua siamo un negozio che paga le tasse con la mente non solo quei mercatini che stanno nel centro di napoli che la roba si butta questa è tutta roba vede qua trenci 10 euro 10 pound 10 pound scusate cappotti invernali ottima qualità 25 pound c'è anche la roba più cara non è che bisogna per forza comprare roba c'è la roba più cara pigiami della disney 10 stelline dumbo aladin ragazzi sono originale disney originali se li fanno fare loro apposta della disney se li fanno fare loro apposta della disney non sono roba falsa tutta roba originale invernali estivi tutto sette stelline pure quelli più estivi guardate incredibile 5 stelline le pantofole non sono quelle cose c'è doppia sola sotto sono quelle buone vedete grazie a tutti 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 i profumi 5 pound 7 pound ragazzi infralite per uomini 90 centesimi una stelline 50 non dico bugie veramente non dico bugie calzini da uomo di cotona due stelline quanti paia sono cinque paia due stelline vestiti classici da uomo carini 35 stelline 15 stelline 15 stelline c'è con 50 stelline comprate un vestito plastico giacca e pantalona ragazzi le camicie cinque stelline 50 collo alla francese slim fit ragazzi ultima modo 8 stelline 8 stelline 17 stelline anche più economica e stella del giacca e no per forza 35 vedete 17 7 stelline boxer mutante tutti i modelli tutti i modelli t-shirt stampate 2 pound e 50 ragazzi è spettacolare veramente spettacolare i t-shirt semplice 2 stelline ragazzi vari gingilli per le donne per decorare la casa 3 stelline e 50 qualità piante finte cestini 4 stelline tappeti 10 stelline quelle per i bagnard questi sono altri tipi di ragazzi i piumoni eh questo è importantissimo qua vanno a top cioè leggero medio invernale 6 stelline e un piumone leggero 8 stelline quello medio e 14 stelline quello invernale ma ne fai vedere un po' 14 stelline quello invernale 8 quello medio e 6 quello leggero piumoni ragazzi piumoni singolo double cioè sono prezzi che non esistono dai 7 ai 15 anni da una stelline 80 a due stelline 30 tutte le fantasie bambolino tutto due stelline leggero per le bambine ragazzi due pigiami delle lol undici stelline due pigiami le lol che tutti i nostri figli vogliano come la mia buon disni ragazzi questa è la piazzetta del centro commerciale normalmente come sono tutte le sedie a sdraio ma si schermo con tutti i sport film eccetera vari negozi ora al cercano di gelati in questa fase 2 tutti gli shop negozi aperti da oggi ufficialmente fase due in inghilterra a parte a parte qualche negozio tipo primark e poi un istituzione se vedete sembra strano perché nonostante fase 2 non c'è quella calca di persone sempre perché qua non c'è mai stato quella violenza psicologica della fase 1 di lockdown e cioè la gente anche se in fase 2 ma non è che non è che obbligatorio dire mamma mia usciamo usciamo è come se fosse fase 1 cioè non cambia niente solo aperto di negozi ragazzi come in tutti come primark come dappertutto gel sanitizer vedete si rispetta tutto ragazzi stamattina vi ho fatto vedere primark vi vorrei far vedere tante cose ma purtroppo per motivi di tempo per un'organizzazione e poi comunque sembra un periodo di covid anche se in piena fase 2 ma comunque un periodo di covid non riesco a organizzarmi bene con i metro i bus eccetera comunque iscrivetevi sempre al mio canale ragazzi vi accontenterò le vostre richieste mi fate le vostre domande commentate per meno ci sono problemi mi avete conosciuto così non sono a completa disposizione mi raccomando mettete sempre un like iscrivetevi al mio canale cosa importantissimo così aumenteremo sempre di più e vi do un bacio a tutti al prossimo video